ciao grazie a tutti sono felice di essere qui ciao a tutti buongiorno ok iniziamo con franco buongiorno salve comincio con Ryanair per dirti questo arrivi al Real Madrid quindi poi fai vado piano fai due anni al Borussia torni in Spagna al Girona e arrivi al Frosinone come mai dal Real Madrid al Frosinone è stata una decisione che ritieni tu opportuno e perché l'hai presa primeiramente sono molto felice di di essere qui e anche fu una scuola è giunto con mio padre è che io volevo giocare è stato con con grandi giocatori anche con un grande treinatore che piace di di avere la bola di giocare quindi è stata una scuola facile di essere qui è una squadra abbastanza jove e in un futebol molto buono che è italiano è una nuova cultura un nuovo paese una nuova lingua e io chiedo stare qui felice fu molto ben ricevuto per i giocatori, per la commissione e ora fare un buon lavoro, lavorare tranquillo e darà un risultato dentro di campo dunque innanzitutto sono molto felice di essere qui e la scelta che ho fatto l'ho fatta anche insieme a mio padre questo perché io volevo essere in una squadra che avesse un grande allenatore che avesse dei grandi giocatori e quindi questo mi ha portato a far sì che questa scelta potesse essere anche molto semplice mi trovo con un team con una squadra che è molto giovane una squadra tra l'altro che è del calcio italiano che è rinomatamente molto molto forte un bel calcio il calcio in Italia e mi trovo qui in una nuova cultura in un nuovo contesto in un nuovo paese addirittura con una nuova lingua però ripeto sono molto felice di essere qui sono stato ricevuto veramente in maniera ottima e sono felice di essere qui per poter svolgere al meglio il mio lavoro e potermi allenare grazie posso salve iron a te con la stessa domanda vieni dal bayern e quindi dico perché il frosinone e se sei soddisfatto della decisione presa è stato molto felice di essere venuto qui a frosinone a qui e mi è piaciuto come si spiega di fussballo, come si spiega di fussballo e come si spiega di fussballo. Lui è molto felice di essere venuto qui a Frosinone e si è convinto di venire qui perché gli è piaciuto guardando la squadra in televisione, lo stile di gioco praticato e la mentalità offensiva che noi abbiamo, che si sposa con le sue caratteristiche. Allora, René è arrivato dal Brasile con Rodrigo e Vinicius, però era considerato il più bravo dei tre. Poi qualcosa lo ha frenato, c'è stata l'esperienza del Borussia, è tornato in Spagna al Girona. Adesso è qui a Frosinone e dove si gioca una carta importante, perché lui sicuramente per noi è un crack, è un grande giocatore e può darci veramente tantissimo e lo spera anche Real Madrid. E poi spiegali che per noi è la prima volta che abbiamo avuto a che fare con Real Madrid e anche col Bayern, quindi anche per il Frosinone è una punta storica a livello di giocatori altissima. Primavera, grazie per l'elogio. Rodrigo e Vinicius sono grandi giocatori, molto amico mio. Quindi io tento seguire il esempio di lui, con sicurezza. Vedo il giorno a giorno e io sai che il Vini anche passò per molta cosa, e che ora io sto passando anche per molta cosa difficile, ma io sto lavorando, quieto, calato. e è certo che molta gente fala, perché io sono del Real Madrid, ma io sto, io sto facendo tutto certo, tranquillo, calato, lavorando. Quindi è un piacere stare qui nel Frosinone. Io voglio giocare, voglio aiutare la squadra, voglio aiutare la squadra, voglio aiutare la mia vita, il mio migliore, per faremo una buona campagna. E ho sicuramente che i giocatori, la comissà tecnica e la comissà tecnici aiutare mi aiutare molto, per che a gente possa cogliere i migliori frutti possibili. Innanzitutto ringrazio per i complimenti che mi ha rivolto. Sì, Rodrigo e Vinicius sono tra l'altro miei grandissimi amici e sto seguendo il loro esempio. So che lo stesso Vinicius ha avuto delle difficoltà, ha avuto un po' di trambusti che anche io sto affrontando, però insomma lavoro a testa bassa e in silenzio. Questo è il mio compito, quello di lavorare. So che molte persone parlano perché vengo dal Real Madrid, ma ripeto, io sono felice di essere a Frosinone, so che posso aiutare la squadra con il mio lavoro, il mio lavoro che ripeto faccio con umiltà e in silenzio e darò sicuramente il massimo per contribuire a una stagione che possa essere il più positiva possibile. Tutti quanti mi hanno accolto nel migliore dei modi e sono qui, ripeto, per lavorare. Ecco, a Ibravimo c'è invece una domanda generica. Se ci racconta un po' di lui, delle sue esperienze, adesso sta nel Bayern, tra l'altro a differenza di Cuni non ce l'hanno dato, è in prestito, e quindi probabilmente forse per lui puntano a qualcosa di diverso. Ecco, se ci parla di lui, della sua vita da calciatore. Quali sono le esperienze? Dice che comunque le sue esperienze sono sempre legate al Bayern, lui è sempre stato là fin da quando è già giovanissimo, ancora più giovane, si è allenato con la prima squadra, è sempre stato nel giro dei professionisti, ha pure debuttato col Bochum in una gara in Bundesliga dove ha giocato una decina di minuti, diciamo è questa la sua esperienza lì al Bayern. Buongiorno, Giovanni Giuliani dell'Universo, una domanda la stessa per entrambi, le prime impressioni sul metodo di lavoro di mister Di Francesco e sul gruppo Frosinone, sul gruppo della squadra, grazie. La prima impressione fu molto buona, è un treinatore che piace molto di stare con la bola, di avere la posizione, e io credo che questo si trova abbastanza con la mia forma di giocare e con la forma della maggioranza di tutti i companiari. Sì, anche il team è un team molto veloce, che piace del gioco rapido, questi 5 giorni di treino sono molto importanti per me conoscere la mia squadra, e ora lavorare tutti i giorni, già abbiamo un gioco molto importante contro il Sassuolo, per me conoscere più e più, e siamo al nostro miglior livello di tutti. Sicuramente l'impressione è un'impressione positiva, perché il mister è un mister che ama il contatto con la palla, possiamo dire. In un certo qual modo mi sento in linea proprio con questo approccio di piacere nel gioco. Ci stiamo allenando, ci stiamo tutti quanti allenando, è una squadra molto rapida, una squadra che gioca sulla velocità. I 5 giorni di allenamento sono stati già fondamentali per entrare in contatto con i miei compagni e conoscerli. Stiamo quindi lavorando, stiamo lavorando anche in vista di un team, di una squadra, scusate, di una partita che è già molto importante, ovvero l'incontro con il Sassuolo. Ci stiamo adoperando proprio per questo. Anche lui è colpito dalla mentalità offensiva, da come gioca il mister. Ci sono allenamenti molto intensi e gli piace lo stile di gioco, l'ha ribadito. Per quel che concerne il rapporto con la squadra, con i compagni, dice che lui essendo molto giovane, comunque tutti cercano di coinvolgerlo, di spiegargli come va l'allenamento, come va il gruppo e l'andamento della quotidianità a Frosinone. Campioni alle Frosinone ITFM, per Rainier tu nasci trequartista, puoi giocare anche esterno offensivo e mezzala, oppure quella della tua posizione, la posizione in cui ti trovi meglio e ti piace giocare lì. Poi per Ibraimovic volevo chiederti se hai sentito Cuni prima di accettare Frosinone. Grazie. Poi giocare nel mezzo è il mio preferito, ma posso giocare per la parte, per la parte, per la parte e per la parte. Io ho detto che io devo stare qui per aiutare a dove vado, o per dentro o per fuori, quindi non ho molto a scoprire, lo che voglio è giocare, aiutare l'equipe. Quindi è questo, le quattro posizioni posso giocare, posso fare e voglio dare la mia vita sempre, in qualunque. Sicuramente il centrocampo è la mia posizione preferita, però posso giocare anche come ala, a destra, a sinistra, non c'è problema, per così dire. Ripeto, io sono qui per aiutare, quindi non è tanto una questione di scegliere cosa mi piace o cosa non mi piace, sono qui per dare il massimo, per dare il massimo alla squadra e è quello che farò, mi dedicherò al massimo in funzione della squadra. Io avevo contato con Marvin prima, ho telefonato con lui un po' e ho scritto con lui un po' e è stato molto positivo per la squadra e anche per la città. E ho potuto mi raccontare solo un po' di positivi. Sì, ha detto che si sono sentiti con Kuni prima che lui venisse qui e gli ha dato tante impressioni positive che comunque l'hanno ulteriormente incentivato a venire qui al Frosinone. Eccomi, buongiorno, benvenuti al Frosinone. Parto da Reiner, faccio due domande veloci, veloci, veloci. La prima, il direttore Angelozzi ci ha detto di un contatto con il mister Ancelotti per arrivare a te e Ancelotti le ha parlato molto bene di te. Ti chiedo se Ancelotti stesso prima di venire a Frosinone ti ha detto qualcosa. L'altra domanda è se ci dici il perché hai scelto il numero di maglia 12. Ad Ibraimovic chiedo, dai tifosi ti farebbe piacere farti chiamare Ibra come l'altro Ibra che in Italia conosciamo molto bene? Immagino che non ci sia nessun legame di parentela e magari ironizzando un pochino se anche il tuo cognome chiaramente in Italia ha suscitato parecchio interesse. E se ci dici il perché del numero di maglia. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando sono arrivato qui in Italia una delle prime cose che ho saputo è proprio che il mister Ancelotti aveva parlato di me, aveva parlato del mio modo di giocare. E ovviamente sono felice, sono felicissimo perché è un grandissimo allenatore, un grandissimo mister. È un onore perché è il mister del Real Madrid che è assolutamente la squadra forse migliore al mondo. E per questo, ripeto, sono felicissimo di quello che è stato detto di me e sono qui. E il numero della camisa 12 è stato anche perché non c'era molte opzioni perché io gioco sempre con la 19 che è il mio primo numero. E è il numero del mio anniversario anche, è il numero della sorte. E ho il numero 12 è stato anche il numero 12. E ho il numero 12 è stato anche il mio amore della mia amore, che è il numero della. Quindi è una persona che sempre è stato con me, è una persona che è sempre con me, è mia mia amore Stefani. E anche il Falcone, che è uno dei più giocatori di futsal del mondo, del Brasile. Quindi ho la sicurezza che questo numero darà molta felicità al torcedor. Riguardo il numero invece, diciamo, non c'era molta scelta. Nel senso che il mio numero sarebbe il 19, sia perché è il giorno del mio compleanno, sia perché è il mio numero fortunato. Però il numero 12 in realtà è il numero di mia sorella, mia sorella Stefani. Una persona che mi è sempre stata a fianco, mi sta sempre a fianco. E in più è il numero di Falcone, che è uno dei più grandi giocatori di calcio a 5 brasiliano. Quindi sicuramente sarà comunque un numero che mi porterà tantissima allegria. Dio Munde. Dice che non ha particolari preferenze sul soprannome Che sia Ari o che sia Ibra Li piacciono entrambi Lui anche ha scelto il 27 Non per particolari motivazioni Ma perché proprio gli piaceva il numero Tra quelli rimasti disponibili No, no, non c'è nessun legame di parentela con Ibra Ciao ragazzi, Massimo Papitto, Gente Comune Web Volevo chiedere a Erion Documentandoti su di te Ho visto che praticamente hai come idolo Leon Goretzka del Bayern Monaco Ti sei allenato con lui Lui ti ha detto qualcosa sulla tua nuova avventura E qual è la tua posizione di campo Dove rendi al meglio? Grazie Io avevo molto a parlare con Leon Goretzka E ero un buon amore E mi ha aiutato molto più E mi ha sempre Gli consigli di fare E mi ha sempre E che ho fatto bene E dove lo spiegato E mi sembra di essere Lo spiegato Adesso ho studiato E lo spiegato Tutto Le spiegato È allo stesso E allo stesso Bayern ha ricoperto sì il ruolo di ala offensiva, ha giocato anche centravanti. Comunque sono queste le posizioni da lui ricoperte. A Reynier voglio chiedere, vieni da un calcio, quello brasiliano, un po' d'anni fa, che ha bisogno comunque un po' di adattamento per quanto riguarda anche poi arrivare in quello europeo. È vera questa cosa e che differenze hai trovato tra il calcio europeo e quello brasiliano? Com certo, c'è questa differenza, il futebol dell'Europa, come ho già stato in Alemanca, in Spagna e ora in Italia. Io ho sicurato che il gioco è più rapido, più intenso e con meno spazio. Quindi è un futebol che deve essere più rapido, avere più agilità, pensare più rapido. E le linee sono più compacti, quindi penso che sia una buona differenza, perché s'entrere con 17 anni e 18 anni e arrivare in Europa è difficile, è una nuova cultura, è un nuovo paese. Quindi hai bisogno di s'entrere il più rapido possibile e con sicurezza c'è una differenza. Assolutamente, esiste una differenza tra il calcio brasiliano e il calcio europeo. Sono approvato in Europa, prima in Germania, poi passando per la Spagna, adesso sono qui in Italia, quindi mi sono reso conto assolutamente di differenze. Quali sono queste differenze? È un calcio molto più rapido, molto più intenso, con meno spazio a disposizione, quindi bisogna essere come? Agili, pensare in maniera rapida e anche le linee sono molto più compatte. Quindi è una differenza che è vera, esiste. Io poi sono arrivato in Europa a 17 anni, quindi vicino alla maggior età, arrivare in Europa, rendersi conto di una differenza anche culturale di paese, sicuramente incide anche sulla differenza calcistica. Max Marzilli, Radio Cassino, willkommen e bienvenuto nelle vostre lingue. La domanda è questa, venite da entrambi, da realtà molto più grandi come città, Girona, più di 100.000 abitanti, Madrid, Bayern, Monaco, da oltre un milione. Quando avete sentito dell'interessamento del Frosinone, cosa avete pensato? Pensate, conoscevate Frosinone? E poi una domanda per te, nella tua carriera ancora giovane, che cosa vuol dire chiamarsi Ibrahimovic? Grazie. Quando ho avuto la proposta, il mio amico Caio Jorge già stava qui nella squadra, quindi, prima di questo, io già fui procurare sapere anche, perché il Caio, a gente sta junto da piccola, quindi è un amico mio, quindi io già fui procurare sapere anche che liga i giochi e tal, quindi quando ho avuto la proposta, io già ho avuto anche un po' e poi quando ho avuto la stella, quando ho avuto con il Frosinone, saì tutto, molti commenti positivi del popolo brasiliano, quindi ho sicuramente di crescere molto più. A disposizione, anche vedere un po' in quale serie sarei andato a giocare. Per quanto riguarda invece la città, non sapevo, non conoscevo Frosinone, sapevo che era vicino Roma e basta sostanzialmente. Fondamentalmente cosa si fa? Anche Caio me l'ha detto, quando si arriva in una città che non si conosce, ci cerca un po' appunto di scoprire qualcosa sulla squadra, di avere informazioni al riguardo, ed effettivamente le informazioni che arrivavano alla Frosinone erano tutte quante informazioni e commenti, opinioni positive. Anche il feedback dal lato brasiliano, quando si è concluso l'accordo, sono stati commenti e opinioni sempre molto positive. La città Frosinone l'ho mai sentito, ma ho scoperto me dopo direttamente se la città è bella o come la città qui è. e cosa ho visto, è veramente top, è piccolo ma fai, dice in sottotitoli. E io voglio comunque fare in Ibra Ibramudici, almeno per provare. E ovviamente non è facile, perchè si vede l'apertura che vede, l'Ibra è un po' appunto. e io voglio comunque cercare di entrare in un fuoco importante che lui si auspica di ripercorrere. Josephin Carinci, Oggi Sport. Arrivati da due club molto importanti, sicuramente Real Madrid e Bayern Monaco sono realtà diverse rispetto a Frosinoni, che però ha delle strutture moderne, uno stadio molto bello, una tifoseria comunque molto calda. Quali sono le vostre prime impressioni? Io sono qui con la stessa humildazione che ho arrivato al Real Madrid e per me è stata una realtà positiva, perché il centro di treinamento mi piaceva molto, con molti campi, il nostro nostro campo è buono, vestiario anche e principalmente le persone, le persone mi piaceva molto, la recezione è stata linda, è stata calorosa, non ho mai avuto questo in mia vita, mi senti bastante in casa e fiquei molto felice con questa recepzione, con tutto che la commissione tecnica, i direttori mi proporzionarono. sono stati molto felice, mi piaceva molto il centro di treinamento e di tutto. il mio approccio e il mio arrivo sono stati comunque marcati dall'umiltà, così come è stato quando sono arrivato al Real Madrid. L'impressione è un'impressione, come ho già detto, positiva. Mi è piaciuto moltissimo il centro allenamenti, la divisa è molto bella, ma soprattutto le persone. Ci tengo a sottolineare le persone, ho ricevuto un'accoglienza veramente calorosissima, mi sono sentito praticamente a casa. La commissione tecnica è stata molto accogliente, quindi ripeto, sono felicissimo del trattamento che mi è stato riservato e ripeto anche nuovamente quanto mi sia piaciuto l'infrastruttura dove ci possiamo allenare. Io ho ancora già già avuto molto bene come quando ho finito sottolineato. La squadra è una famiglia e non mi è piaciuto, non mi sembravo a fare un stagione con i fans e con il Stagione. dice che non è da molto qui ma ha già potuto sperimentare come qui la squadra e la società sono quasi come una famiglia e non vede l'ora di entrare qui allo stadio per la partita quando sarà pieno e vivere le emozioni della gara Per Renier hai vinto un oro con il Brasile a Tokyo 2020 quanto vuoi riconquistare la maglia della nazionale brasiliana e poi una veloce a entrambi in che percentuali di condizioni vi ritenete di essere e se potete giocare dal primo minuto E' stato uno dei momenti più felici della mia vita ganare un oro olimpico e è questo è lavorare ora focare nel team e lavorare firme e conquistare grandi obiettivi Sicuramente una delle gioie più grandi della mia vita quella di poter vincere un oro olimpico e adesso si rifocalizza tutto quanto in questo duro lavoro lavoro in squadra per poter riuscire a raggiungere gli obiettivi con fermezza e con focus Essi treze primeiras essi treze primeiras di treino treinei poco con la equipe ma fiz bastante treino fisico perché a comissà achò che ho precisava e io tammè perché ho fatto un tempo senza fare la prima temporada fiz un poco e ora mi sento perfeita Oggi ho fatto tutto il treno, ho fatto l'academia, ho fatto tutto il treinamento, quindi sto molto bene, mi sento bene, senza dolore, e spero di poter aiutare l'equipe nel prossimo gioco, perché sto 100%. E anche l'opinione della Commissione Tecnica è che dovessi concentrarmi un po' sul mio lavoro fisico-personale, ed effettivamente avevano ragione, anche perché nella prestagione ero stato un attimo in stop. Ieri però, per esempio, ho fatto sì a una parte di allenamento personale, quindi in palestra, poi abbiamo proseguito con l'allenamento, e mi sentivo benissimo, mi sento benissimo, quindi sono contento e spero di poter dare una mano nella prossima partita. Io credo che potrei cominciare, ma se per 90 minuti si può riuscire, non lo so, perché c'è anche il fußballo sui livelli, e per condizionale sono sicuramente fit, ma come dicevo, se per 90 minuti si può riuscire, non lo so. Dice che comunque la condizione lui la sente buona, non sa se può giocare per 90 minuti, ma comunque si sente pronto a partire dal primo minuto, anche se gioca in un calcio di grande livello come quello italiano. E allora, grazie a tutti. Prima di chiudere la diretta, volevo ringraziare, oltre ai calciatori, anche Federico Giannattasio, e soprattutto la Soul School, che ci segue sempre in queste conferenze, e grazie anche a Francesco Ridolfo dell'area tecnica del Frosinone Calcio. Grazie a tutti, e adesso ci fermiamo per le foto. Grazie. Grazie.